Tutto comincia dal signor Giuseppe Evola di Carini che grazie al suo lavoro di San Sala conosce tutti e pertanto concorre in associazione mafiosa con alcuni di questi tutti. A Pitto Locale, dove c'era una pescheria al bivio di Carini, a Bito Caruso, un indagato per piccolo sfaccio di droga che secondo gli inquirenti nelle intercettazioni era spacciata per gamberoni. Ci sono anche i gradi di parentela della moglie di Evola con i boss di Carini, Battista Bevelacqua e Giuseppe Pecoraio. Evola è arrestato nel corso di un'operazione, grande padrino, rimane in carcere per due giorni, viene rilasciato e messo ai domiciliari per qualche mese. Sottoposto al processo e prosciolto da ogni accusa dal giudice Morosini. Ma ecco che, quando tutto sembra finito, arriva il 20 giugno del 2014, la mannaia delle misure di prevenzione, tutto sequestrato, non solo a Evola, ma anche alle due figlie e quindi ai generi. Si trova che uno di essi, Antonio Nicastri, che non ha presentato dichiarazione dei redditi dal 2002 al 2007, e che quindi i suoi beni sarebbero di provenienza illecita. Tra questi c'è una casetta di 70 metri quadrati, con annesso terreno in affitto, una casa in costruzione e soprattutto un rinomato locale di ristorazione in via Strasburgo a Palermo dal nome Times Square, dove si cucinano specialità americane. Le indagini non tengono conto intenzionalmente che il signor Nicastro da tempo è stato residente in America, dove ha regolarmente presentato le sue dichiarazioni di redditi e che quello che ha realizzato in Italia è frutto del suo lavoro e dei suoi risparmi, e che quindi non ha niente a che fare né con le attività del suocero né con eventuali riciclaggi di soldi mafiosi. Il decreto di sequestro emesso dal solito trio, Saguto, Licata e Chiaromonte, è un non capolavoro di arzigogolature, di deduzioni forzate, di illazioni riportate come conseguenze logiche, senza un briciolo di una prova. Tra l'altro non riporta una stima complessiva dei beni sequestrati. L'amministrazione giudiziaria viene affidata a uno dei re degli amministratori, Luigi Turchio, il quale per i primi tre mesi riscontra che il fatturato era conforme a quello dichiarato. Turchio mette a rappresentarlo un ex funzionario della DIA che passa il tempo a giocare in un vicino better gli incassi della giornata, anche più di 500 euro al giorno, e che sistema nel locale la figlia, la moglie e la nora. Quando Turchio è avvisato dal titolare Nicastro, licenzia tutti e quattro. Piano piano vengono licenziati gli undici lavoratori che si prestavano servizio e tutto viene interamente chiuso il 4 giugno del 2015. In un anno Turchio è stato capace di portare al fallimento uno dei locali più inne di Palermo, senza un bricciolo di resoconto del suo non far niente. All'atto della chiusura non si consente neanche una pulizia straordinaria con sgombero. Viene lasciato il gelato ad ammuffire nei pozzetti, le derrate alimentari a marcire, ci sono scoli d'acqua, vermi, topi, devastazione e scomparsa delle attrezzature. Intanto Nicastro, attraverso un legale che sembra non legato ai quotini palermitani, riesce a far valere le sue ragioni del suo cliente ed ottenere una sentenza di chiusura del caso e di restituzione dei beni. Ma intanto scoppia lo scandalo. La Saguto e Licata sono trasferiti e Nicastro si rega dal nuovo presidente delle misure di prevenzione, il dottor Fontana, per chiedergli di firmare la sentenza. Dopo cinque ore di attesa, Fontana riceve il Nicastro, ma gli dice che firmare non è compito suo, ma dai giudici che hanno emesso il decreto, cioè la Saguto, che è in malattia per depressione. E Licata, che non si sa dove è finito, forse è in feri. C'è da arrestare allibiti. Un giudice, la cui competenza è quella di firmare gli atti che gli sono stati lasciati da chi l'ha preceduto, dice che non è compito suo. E il povero Nicastro aspetta, mentre la moglie e gli altri due figli sono tornati in America. Un'altra delle tante storie di ordinaria tristezza. Parlando ancora di misure di prevenzione, ieri vi avevamo anticipato che ovviamente c'è di tutto e di più, che tantissimi sono i cittadini che nulla hanno a che fare con la mafia e con i mafiosi, che sono stati devastati da quelli che sono i provvedimenti delle misure di prevenzione, della dottoressa Saguto e delle forze di polizia, che ribadiamo ancora una volta molto spesso, non sanno lavorare oppure non devono lavorare perché i sequestri andavano fatti a prescindere per far ingrassare i soliti amministratori giudiziari. Brevemente oggi vogliamo raccontarvi una storia che ha dell'incredibile e ce la racconta il diretto interessato. Salve, mi chiamo Antonio Nicastri. Io ho vissuto, nel 90 sono andato via a vivere in America per 17 anni, cercando sempre di tornare in patria e poter vivere nel mio paese. Ho aperto un locale a Palermo, in Viale Strasburgo, si chiama Times Square, e il sogno di tutti gli italo-americani è quello di tornare a casa. Il 20 giugno del 2014 mi arriva un sequestro dove mi chiedono di uscire dal locale perché il locale verrà posto sotto sequestro. Lo Stato mi cerca... A prescindere che il locale verrà posto sotto sequestro perché il signor Nicastri è genero di un presunto mafioso poi assolto con formula piena. Sì, il mio suocere era stato coinvolto in una vicenda a Carini, però subito dopo è stato assolto in piena formula e quindi scarcerato e tornato a casa. La mia storia ha dell'assurdo perché dopo 17 anni di sacrifici e con ogni un sogno tutto svanisce così. In distanza di meno di un anno il locale dove avevo 12 dipendenti che lavoravano con me e collaboravano con me sono stati tutti licenziati a poco meno di un anno perché il locale non rendeva più. Due precisazioni. Una è l'amministratore giudiziario che si chiama Turchio. Sì, il dottore Turchio. Il coadiutore si chiama... Cataldo. Un ex funzionario della DIA. Sì. Non si capisce perché è ex funzionario della DIA visto che era in DIA. Era in pensione all'età avanzata. Sì, credo di sì. Credo fosse in pensione. Si è messo a disposizione dicendo che ci avrebbe pensato tutto lui. Infatti l'ha fatto fallire. Sì, ci ha pensato. Tra l'altro la risposta che mi è stata data per il motivo per cui hanno dovuto chiudere il locale è perché non rendeva più. Le spese di personale erano troppe. Tanto è vero che il dottore Cataldo si è pure assunto la figlia, la nuora, a tempo indeterminato e quindi questo perché il locale non rendesse più. Io vorrei... Sono stato lunedì scorso, sono andato in tribunale, ho aspettato quattro ore e mezzo dietro una porta, aspettando il dottore Fontana. Finalmente mi ha ricevuto, ho chiesto perché la nostra causa ancora continuasse a non avere alcuna risposta, nessun esito, dicendo io... Noi siamo a decreto ormai, la nostra cosa è chiusa, neanche una perizia è stata ordinata, perché vivendo in America lo Stato mi chiedeva a me le dichiarazioni dei redditi degli anni in cui io sono un residente in America regolarmente iscritto all'AE. Scusa, una precisazione, la Guardia di Finanza richiede i redditi di 17 anni non sapendo, non essendo a conoscenza che lei è in America? Non ci sono nemmeno posti la domanda, non ci sono nemmeno chiesti ma dove vive questo signore? Io ho vissuto 17 anni in America, regolarmente un cittadino è iscritto all'Aere, bastava andare al comune e chiedere a questo signore ma chi è, da dove viene? E quindi... Non hanno fatto nemmeno? No, no, assolutamente no. Fontana invece è il nuovo presidente delle missioni di prevenzione? Il nuovo presidente delle missioni di prevenzione mi ha ricevuto, sono entrato nel suo ufficio e mi dice dopo che ho presentato, ho chiesto cosa sta succedendo con il mio caso, alzando le mani mi dice non è di competenza mia. Che significa? È quello che vorrei spiegarmi anch'io. Chi dovrebbe fermare? La dottoressa Saguto... Se è sospesa, diciamo, visto che è inquisito. Non ho avuto nemmeno la possibilità di chiedere, di fare, di portare questa domanda e dire ma perché mi ha alzato le mani dicendomi io non è di competenza mia, arrivederci. Mi scuse, e la dottoressa Saguto in questo momento dove sei? Che io sappia da quello che mi è stato riferito è in malattia perché è in crisi depressiva al momento. E quindi dobbiamo aspettare la depressione della... Attendere prego, praticamente questo mi è stato detto. Io ho moglie, ho tre figli, ho una famiglia a carico, ho dovuto lasciare l'Italia nuovamente, tornare in America a lavorare, e dopo 25 anni di fare il datore di lavoro sono dovuto andare a lavorare come pizzaiolo perché la mia famiglia doveva vivere. Dottoressa Saguto, lei capisce che è molto comprensibile la sua depressione ma credo che dovrebbe anche capire quante persone lei e i suoi amministratori hanno messo in depressione, gli hanno fatto perdere il posto di lavoro, non hanno più di che mangiare e sono in mezzo alla strada. una allegra gestione dei beni sequestrati fatta in questa maniera dove la guardia di finanza non sa nemmeno andare a guardare le carte oppure adesso abbiamo ex funzionari della DIA o la stessa DIA che era al suo servizio dà il peso, il senso di quello che c'è ancora da scoprire all'interno delle misure di prevenzione. Caro Dottor Fontana, iniziamo male. Se lei incomincia a delegare ad altri quelle che sono il peso delle sue responsabilità credo che lei non è adatto a poter guidare quel settore e chiamare ancora in causa Licata, Saguto o Chiaromonte che sono stati trasferiti o che rischiano addirittura il trasferimento dal Tribunale di Palermo in altre sedi chi è che dovrebbe firmare? Chi è che risolve il problema non solo del Dottor Necastri ma tantissime persone che sono in queste condizioni ecco, ci sarà il caos nelle misure di prevenzione e tutto, come al solito rimarrà come prima.